a me di sbattere in faccia una roba del genere non mi interessa mi piace solamente per quelle persone per quelle persone che mi davano del fallito quando facevo il pro player ora per citarne due una ragazza, una signora di 50 anni, 53 e un signore di 54 non andrò a citare nomi e cognomi fallito non combinerai mai niente di buono toccatemi il cazzo caglioni kindred all'ulti ragazzi kindred all'ulti kindred all'ulti kindred qua potrebbe recuperare un attimo all'ulti, all'ulti kindred all'ulti ma non se ne accorge ragazzi non è colpa sua non ha visto che può premere un tasto e salvarsi ora questi ho ho i ducro ma levati dai coglioni tranquilli tranquilli c'è l'ulti di kindred e non c'è l'ulti di kindred all'ulti di kindred guida what is ult what is ult what is ult tua madre what is ult what is ult eccoli qua ragazzi yorio games what is ult 7-11 thank you thank you for making these people climb in my solo queue games what is ult vai calmi che ci arrivi va bene va bene clavoroso vabbè mi ha messi il faker i ducro guarda sto lì sin mamma mia il signore fammi scrivere fammi scrivere oi ducro why this why their jungler is john wick why my jungler is ultrò voi chema ah no damas mena di carry che fa ho fatto il platino volevo scrivere sotto mena qui ma che cazzo me ne frega volevo fare lo smile e ho visto anche il like di fragola che non mette mai like e fa ho fatto sono stato gold no non era guidi sono stato a gold per 4 anni 5 se non mi ricordo più il numero 4 5 anni ma da una settimana ho cambiato ruolo e grazie giocando in jungle ho fatto 1 win 9 ho fatto il plat ho fatto vedere un pgg kain 20 kill evelyn 20 0 rengar 20 0 non ho detto non scrivo perché cazzo me ne frega plegocrof sarebbe stato divertente lo lasciamo stare denzy 1 grazie del follow british hunter ci sta ragazzi smattare all'improvviso da mena di carrie smappare ruolo giocare cane in jungle fare 20 kill la partita fino a plat maestro sa quale è la differenza tra ele mia ragazza e le ruote della mia macchina le ruote della mia macchina hanno le catene solo d'inverno pingo tristana patto e questo game qua apriremo il culo agli avversari ed ecco gli alleati i love hot mamms show neore becknabur determination determination non è determinato è de punto de termination col punto termination sperando che non sia terminale lui termination massacra gli avversari stato a plenare qua termination c'ho finta di essere fuori posizione io cane quasi eroe quasi eroe quasi eroe ho fatto bene a tenere l'ulti lo sapevo lo sapevo ragazzi ho fatto bene quasi eroe non abbastanza per poco ragazzi quasi fucking eroe mamma mia mamma mia vuoi fottere con me 0 0 7 basta trollare non è int mostro del void e fare 1 v 9 de skin magicia salta siii oee dio che che li devo dire a quel ho chillato il migno ha livellato miracolo miracolo ho chillato il migno da caso ha livellato clamoroso ho chillato il migno perché sono un coglione ho l'ok da premere e sta in avanti qua scappano tutti tu fra mumu lì e così perché mi è andata perché non torno indietro per forza 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 VALPESCO E RAICO Quando è stato? Quando è venuto su V di Pelofa Faccia di Lulo 20.000 persone ragazzi Perry si Sono venuti su 30.000 ragazzi qua Per bere fuori Moderatori, non moderatori, animali, bestie Magista era sfidato il barista Che mi ha ucciso clamorosamente E mentre vomitavo tra un vomito e l'altro Dicevo LÌ Perché mi piaceva? Non so perché No Pivan, XPivanux Vieni qua Pivanux, vieni qua Vieni Dottor Pivan Tu sarai il posto speciale che meriti Istantaneamente, accetta quella richiesta Vieni Pivan Guarda, grazie al cielo Istantaneamente scomparso Per fortuna mi hai detto Il tuo calco, li so quale non Accettare assolutamente Tritato Tritato Fede Puoi anche ammetterlo Che becchi Gente nella tua win trade list On stream e trolli Praticamente ragazzi Mi è successo anche se vado in Italia Breeze non sale di Halo Per il content Perde apposta Perde apposta i game Per rimanere in D1 D2 D3 Così continuo a vincere facilmente Sembra che faccia 1v9 Non sto scherzando Me l'hanno detto Ora io voglio chiedere a questa gente qua Esco dalle mie live Che dopo che chiudo la live Cado al suolo Ho rischiato di andare in ospedale 3 volte in un anno 3 volte Forse 4 Non mi ricordo più Sai perché? Perché ho una pressione a 200 Dopo il cazzo di game Secondo voi faccio finta Quando cazzo tilto E flammo Mi faccio finta Sono avvelenato Sono avvelenato Da sto gioco Avvelenato Che sia chiaro a tutti Oh grazie del terzo Devo giustare il self The Hydroflex The Architec Criscito rotto Godo 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 Mi sta troppo sui coglioni Mimmo Criscito Mamma mia Perché devi fare il coglione E invece è un dio Applauso a Silas Silas 1v9 Come in come in come in Let's watch this center C Right? This guy named center C Let's watch Victorious Lucian I don't think he ever Even know what victory means Right? Come over come over Let's see his leaning face Let's see his own leaning face For a moment Right? Let's watch this Where the fuck is the Champions Eeeen 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 Ok Here it is Can you see him? Yes This is the guy Right? Eeeen Why am I even trying to explain This shit game League of Legends Go fuck yourself Eeeen 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 Lucha Miracle You are I don't know The lack of the ear I don't know what to say Like Timo against Timo In the bash Eeeen Eeeen Ma che ha aiutato il game Ma che ha aiutato il game Abbiamo Cassadin Cassawin Elkarim Il centauro pazzo Trandoli Il troll delle caverne Pronto a stompare Ezreal Il ragazzo Quello di sex education Sulla sedia a rotelle Pronto a passare sopra le persone A 300 all'ora Il game è vinto Non è incinta la Martina ragazzi Buoni Non che io sappia Sei maschio aiuto Sei femmina Sei femmina Bamba Sei asiatico Faker Calcolato Pena pingato che Kayle era top Però va bene Dai Sona Mamma mia Oh Non si sbottona mai Non si sbottona mai Di solito Quelle che si che giocano Sona Eh no Sono più aggressive Ti giocano in Ti fanno qualche culo Ti curano aggressive Ti rompono il cazzo Sto cercando di uscire Dal cul de sac Dove mi sono infilato E di solito Nel cul de sac Ci entra Il magister Nel senso che Si infila In parole che in realtà Non può dire Ma si salve in extremis Magister come cazzo fai Proprio lo stesso cazzo Che dai tutto il giorno A questi Player Quante avventure fantastiche Boso Ficcio Troppo Il maledetto Oh Arabe Sforno Di questa umanità Perché qualcuno Non mi conto Si nasconde Un open middle Ah Grammoy E non ci sono Te quei E l'amore Il maledetto Siamo tutti Lì Non ci si They want the 2v2 Oh my god they want the 2v2 Keklin suck my cock Fucking idiot Fucking stupid Retard The D is muted like in jungle Suck my cock fucking animal And look at this Wait what you said My jungler come back Look at your jungler coming back and taking my cock in his mouth like his mother Get fucking destroyed Get gulped and suck my fucking cock Fucking random Fucking dog shit random Stay master for the rest of your life Animal boosted dog A ritmo però Però a ritmo Mi dava a ritmo Non so ragazzi Non lo so Mi andava a ritmo Mi andava a cogli Perché si è stanato Mi andava a cogli Mi suonava bene Non so per che ho ha visto Ah me lo so sentito dentro Mi andava a cogliere Let's go Good to know